Cari amici di Fano TV, ben trovati, un altro approfondimento in studio per parlare di politica ed è il secondo appuntamento in compagnia di Lucia Tarsi, ben trovata, candidata con Fratelli d'Italia e a sostegno della candidatura di Luca Serfilippi. Ok, allora abbiamo toccato una parte di argomenti che le stanno a cuore nel nostro primo appuntamento, questa volta parliamo di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della nostra Fano. È un tema di proporzioni veramente gigantesche ed è un tema che ho affrontato nell'ultimo periodo proprio perché ci sono state alcune criticità che abbiamo segnalato già dal Consiglio Comunale ma anche attraverso la stampa. La nostra città ha un patrimonio monumentale, architettonico, culturale, artistico, di tradizioni, ha un patrimonio gigantesco. Forse nemmeno noi riusciamo a renderci conto proprio perché ci siamo nati, lo abbiamo sempre vissuto e visto. E questo è sicuramente l'elemento fondante da cui noi dobbiamo ripartire per rivalorizzare la nostra città ed è l'elemento che costituisce la nostra identità di città e la nostra identità culturale perché si rifà alle nostre radici profonde. Ci sono molte questioni sul tappeto. C'è la necessità di dare maggior impulso al centro studi vitruviano e al nostro legame con Vitruvio che rappresenta un unicum a livello planetario quindi è sicuramente un elemento significativo che va assolutamente sottolineato e arricchito. C'è la necessità di valorizzare anche alcuni secoli che spesso non vengono approfonditi come per esempio il nostro Medioevo ma anche il nostro 600 attraverso 600-700 attraverso la scoperta, la riscoperta di molte dimore storiche che sono comunque palazzi nobiliari del centro, di proprietà privata di cui i privati andrebbero comunque aiutati e sostenuti anche per avere un interscambio di possibilità perché poi se nascesse una corretta relazione con questi proprietari si potrebbe in qualche modo aprire queste case molto interessanti non sono case, sono palazzi bellissimi e renderli anche visitabili alla città. Ma c'è un'urgenza, ci sono alcune emergenze che assolutamente non devono essere trascurate la prima sicuramente sono le condizioni di San Pietro in valle che in questi anni è stato chiuso sono state fatte delle indagini ma ancora non si è intervenuto per risolvere il problema vanno completate le indagini va fatta un'ulteriore spezzone di indagini per quanto riguarda la vulnerabilità sismica e statica dell'edificio e poi va immediatamente messo un riparo. Il secondo è sicuramente San Francesco San Francesco senza il tetto il nostro luogo più suggestivo della città che però dobbiamo decidere se ci piace così com'è oppure se vogliamo rinunciare ai bellissimi stucchi perché lasciato in quelle condizioni molto probabilmente quelle pareti non avranno vita lunga in quel modo dovremo prendere una decisione. e poi ci sono le mura le mura dalla parte della rocca malatestiana che in questi anni si sono sempre più infestate di vegetazione e quindi vegetazione che rischia di mettere in grosse criticità queste mura quindi andrebbero immediatamente ripulite queste sono diciamo le priorità. Poi la cultura ecco io a Maria Elena mi sento di dire una cosa spesso la gente pensa che la cultura sia a pannaggio della sinistra e che chi è a destra quasi non abbia sensibilità mi sento di dire esattamente il contrario i conservatori hanno una profonda consapevolezza del valore delle nostre origini perché solo attraverso la nostra identità che si basa su queste origini possiamo guardare al futuro quindi la cultura non è di sinistra o di destra la cultura con la C maiuscola è di tutti. Azienda dei servizi alla persona Altro tema gigantesco un tema anche molto intricato molto difficile e quando ne parlo con le persone mi viene così da fare un parallelo il parallelo col PRG il piano regolatore viene vissuto come un elemento fondamentale della città perché effettivamente è alla base dello sviluppo urbanistico anche economico bene l'azienda dei servizi alla persona ha parallelamente diciamo lo stesso peso solo che non ce ne accorgiamo un'attenzione al sociale utilizzando un'azienda dei servizi ha in qualche modo il peso sulla nostra vita quotidiana che ha avuto in tempi passati la costruzione di ASET dove tutto quello che era la gestione di determinati servizi è entrata in un'aziendalizzazione in un'azienda che ha accumulato una serie di servizi ed è di proprietà pubblica bene anche in questo caso l'azienda dei servizi alla persona dovrebbe accumulare a sé avvocare a sé tutte le funzioni che in questo momento a prevalenza delle funzioni che in questo momento sono dei servizi sociali però diventerebbe un'azienda noi abbiamo contestato prima di tutto questa organizzazione aziendale che voleva vedere alla propria proprio vertice una struttura assolutamente apicale con una sola figura non abbiamo accettato questa idea non abbiamo accettato anche l'idea che si dovesse correre a stringere questo patto entro la fine dell'anno perché abbiamo ritenuto opportuno che si dovesse aspettare invece la nuova elezione e quindi se i sindaci dell'ambito vanno alle elezioni bisogna che siano le nuove amministrazioni a decidere come organizzare e poi forse l'elemento più dirimente è stato il fatto che finora non è stato coinvolto in maniera opportuna e approfondita il terzo settore cioè le associazioni e gli enti e le cooperative che lavorano nei servizi sociali quello è stato sicuramente una perdita di una grande occasione era un percorso che doveva iniziare con accanto con una coprogettazione con uno scambio con un dialogo con un confronto con tutti i soggetti che sono o direttamente o indirettamente interessati al sociale questo non è stato fatto e la struttura e l'organizzazione è sembrata più quasi una operazione burocratica che non un'operazione di costruzione del sociale che ha altri metodi completamente diversi da quelli utilizzati per tutti questi motivi noi abbiamo contestato questa modalità di costruzione dell'azienda e fortunatamente la Regione Marche ha fermato questo percorso alla fine di quest'anno Lei pone particolare attenzione agli anziani e ai bambini? Agli anziani in maniera particolare io proprio per il fatto che vengo dall'esperienza del volontariato conosco bene che diciamo le famiglie fortunate non sono poi così tante ci sono tante persone che sono in difficoltà non solo economica ma anche tante altre forme di difficoltà disagio sociale disagio psichico disabilità e poi c'è una forma che sta diventando dirompente si sta diffondendo e che ho vissuto anche in prima persona ed è l'Alzheimer e le demenze senili purtroppo il numero afano di famiglie coinvolte attualmente è più di 1000 1200 in crescita progressiva ogni anno sono sempre di più e la crescita è sempre più veloce quello che accade in una famiglia con demenza con una persona affetta ad Alzheimer solo chi l'ha vissuto può raccontarlo queste famiglie vivono veramente un incubo che si protrae anche per molto molto a lungo e si trova in una condizione di disagio a volte entrano in una condizione di disagio psicologico proprio perché il confronto con un malato di Alzheimer è molto complesso e difficile e la mancanza di assistenza la mancanza di una RSA di una struttura protetta per malati di questo tipo fa sì che in famiglia qualcuno poi alla fine si debba sacrificare o si va verso la scelta dell'abadante ma non tutte le famiglie possono permettersi di pagare un abadante oppure uno è un componente della famiglia alla fine rinuncia al proprio lavoro e guarda caso chi rinuncia al proprio lavoro sono sempre le figure femminili le figlie le nuore che stanno a casa stanno a casa magari per lunghi mesi lunghi anni con accanto una persona che è di difficile gestione da quattro anni ci sarebbe stata la possibilità nel momento in cui la Don Tonucci è stata venduta ad un fondo privato ci sarebbe stata la possibilità di ampliare anzi i patti di quella vendita erano che chi aveva rilevato questo edificio avrebbe dovuto ampliare con altri 40 posti non lo ha fatto quindi sono stati persi quattro anni importanti con la nuova amministrazione dobbiamo assolutamente correre a cercare di sanare sono 40 posti non risolvono tutto il problema ma danno sicuramente l'immagine di un'amministrazione che vuole andare incontro alle famiglie il tema poi in qualche modo della possibilità anche di aiutarli a casa anche questo è sicuramente un tema importante e attraverso il volontariato attraverso tante altre forme anche eventualmente di aiuto economico si può venire incontro a quelle famiglie che si trovano nella necessità di dover assumere una persona terza un badante un badante per aiutare i propri genitori riguardo i bambini come si prospetta la questione degli asili nido riguardo i bambini anche questa è una cosa molto interessante perché riguarda i bambini ma soprattutto riguarda le giovani famiglie io credo che al centro delle politiche sociali debba esserci assolutamente un'attenzione nei confronti della famiglia in generale di tutte le famiglie ma in particolare delle famiglie con bimbi piccoli perché sono le famiglie giovani quelle che devono trovare un equilibrio tra il lavoro l'impegno la volontà di voler crescere nella propria professione e trovare anche al contempo la possibilità di avere dei bambini di educarli e di poterli far crescere molte famiglie non lo fanno cioè rinunciano ad avere figli perché non riescono a organizzarsi con il lavoro ecco quindi che l'asilo l'asilo nido soprattutto diventa una struttura fondamentale per permettere alle mamme i papà delle nuove generazioni di poter continuare ad avere una vita professionale di crescere professionalmente ma di avere anche dei bimbi attualmente gli asili nido hanno degli orari spesso non compatibili gli asili nido comunali hanno orari non compatibili con certi tipi di lavoro le donne in questo momento a Fano hanno fortunatamente anche incarichi che in qualche modo paragonabili con quelli maschili e a volte hanno anche la necessità di fare delle turnazioni per cui tornano tardi la sera servono asili nido che forniscano queste agevolazioni e servono inutile dire che ne verranno costruiti altri tre è vero ma ancora devono cominciare queste costruzioni quindi fin quando non saranno completate questi anni di nido stiamo parlando del 2026 non sono disponibili quindi da qui al 2026 rimarranno ancora latenti vuoti scusate carenti un centinaio se non di più di richieste un'altra cosa che mi sembra molto interessante sia per i genitori ma anche torno un passo indietro per le famiglie di persone con anziani in famiglia anche che non abbiano delle particolari criticità mediche è il fatto che si possono c'è stato chi privatamente li ha organizzati un'associazione privata li ha organizzati fare delle attività di formazione sia la genitorialità nel caso delle giovani famiglie sia anche all'assistenza alle persone anziane perché non è una cosa immediata perché abbiamo bisogno di essere formati da medici da esperti che ci aiutino a capire come devo comportarmi nei confronti di una persona che ha magari anziana delle patologie particolari che non vanno curate come quelle magari del 50enne quindi sono tutte cose che possono essere create per aiutare e sostenere la famiglia Nell'approfondimento precedente lei si è raccontata come persona per farsi conoscere al pubblico e ha citato il quattro zampe della sua famiglia che la rende appunto sensibile ad un altro tema che è quello degli animali Sì io ho sempre vissuto con dei quattro zampe due zampe tre zampe nel senso che poi ho avuto anche animaletti infortunati quando ero molto giovane amavo i gatti li amo ancora ma purtroppo vivo ora in una strada ad alta percorrenza e i gatti non sono compatibili con le automobili purtroppo ora sono anni ecco che la mia famiglia ha continuativamente avuto dei cani è una passione speciale non è possibile anche questa descriverla la capiscono e la conoscono tutti gli amanti dei quattro zampe dei due zampe e anche di una zampa sola degli animali in generale l'animale è non soltanto un amico non è soltanto un giochino ha aiutato a crescere le mie figlie il mio boxer il mio primo boxer le ha insegnato loro a camminare le sosteneva mentre camminavano è stato un amico fedele e tutti i nostri cani sono amici fedeli e in particolare in quelle situazioni di solitudine ci sono persone che non hanno la fortuna di avere la famiglia non ce l'hanno più bene l'animale diventa un compagno un parente un amico qualcuno che ti spinge ad uscire di casa perché deve fare la passeggiata che ti fa sentire meno solo che favorisce la vita sociale e quindi queste persone vanno assolutamente aiutate soprattutto nel momento diciamo così finale quello più triste quando bisogna che salutiamo i nostri amici e salutarli e vederli così andare via è un momento doloroso per tutti ma sapere magari che c'è un cimitero dei nostri amici a quattro zampe renderebbe le cose forse diciamo meno difficili e meno dolorose quindi noi contiamo ecco con Lucas e Filippi di costituire un cimitero per i nostri amici a quattro zampe dove poterli andare così ad accompagnare in questo ponte verso il sole 30 secondi per fare l'appello al voto in camera è un invito a questa città finalmente a scegliere un'area nuova abbiamo bisogno di ripartire da capo riconoscendo che alcune cose sono state fatte ma molte potevano ancora essere fatte e molte possono essere migliorate e quindi l'8-9 giugno noi invitiamo tutti i cittadini fanesi anche quelli che non credono più alla politica e a darci ancora una possibilità perché io alla politica ci credo ho speso tanto per la politica non lo faccio nel mio interesse lo faccio nell'interesse della città grazie allora Lucia Tarsi per essere stata con noi grazie a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarmi grazie Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie a tutti